Wubbie Goldberg, la famosa attrice americana per eccellenza che, vi ricordo, ha recitato dei film Sister Act dove interpretare il ruolo di una finta suona, ma anche in Ghost Fantasma, ha incontrato oggi, il 12 ottobre 2023, al Vaticano, Sua Santità Papa Francesco. C'è stato l'incontro, finalmente, col Pontefice, con Sua Santità, ha visitato una bella mostra fotografica che le sarebbe piaciuta a me anche molto e era stata vestita questa, per l'appunto, mostra in la sala stampa della Santa Sede, chiamata Ceres, va bene? Diciamo che c'è stato questo incontro, sembra che Papa Francesco sia rimasto molto felice nell'aver visto e conosciuto Wubbie Goldberg che si è dimostrata molto attenta alle dinamiche, diciamo così, del Vaticano e ha deciso poi di mettere su Instagram qualche storia su Papa Francesco, la famosa attrice Wubbie Goldberg. Vi ringrazio per l'ascolto, il bio termina qua, iscrivetevi e commentate, ci adoriamo il narratore italiano.